efficace al 100% il volume dei peli morti rimossi è assolutamente incredibile rispetta il tuo animale per una spazzolatura senza dolore easy, l'unica spazzola che rimuove solo il pelo morto easy, finalmente una spazzola che rispetta la pelle del tuo animale domestico vedi la differenza tra il pettine metallico e il pettine composito easy grazie al suo design innovativo il pettine composito easy è analergico, antistatico e consente una spazzolatura liscia mentre rimuove i peli morti semplice, efficace e facile da usare la spazzola easy è adatta a tutte le vostre esigenze per pelo corto e lungo sia sottili che spessi l'espulsione del pelo viene eseguita in un solo passaggio la spazzola easy evita la formazione delle palle di pelo nei gatti